Le mie opere hanno vissuto tra due epoche e due guerre, tra Europa e Americhe, tra i silenzi dell'intimità e il brusio delle esposizioni, ma hanno sempre raccontato un'unica verità, quella delle mie emozioni. Felice Casorati, ad Alba, in Fondazione Ferrero, con 70 straordinarie opere. Sono le persone e le cose, così come le ho viste e amate.